Oggi con questo video vi voglio dare i consigli di content marketing turistico Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video dove tratteremo l'argomento del content marketing per il mondo del turismo un argomento che interessa non solo gli alberghi ma magari anche le agenzie viaggio chi mi segue già sa che sono una social media manager che sono specializzata per il settore alberghiero ma soprattutto chi mi segue si sarà reso conto che comunque il mio obiettivo è quello di dare dei consigli per utilizzare al meglio i social per il nostro business e se non siete del settore alberghiero o comunque del settore turistico questi consigli potete utilizzare al meglio seguitemi in questo video perché troverete tantissimi spunti interessanti come sempre se non siete iscritti vi invito a iscrivervi al canale e poi vi invito anche a iscrivervi alla mia newsletter sul sito www.alessiaboccanfuso.com e mi chiederete perché mi dovrei iscrivere alla newsletter ebbene a partire da fine novembre uscirà il mio corso su come diventare social media manager ma nel 2021 ci saranno anche altri corsi che usciranno se vi iscrivete alla mia newsletter avrete sempre un prezzo riservato mentre il pubblico, coloro che non sono iscritti alla newsletter questo prezzo riservato non lo avranno avranno un'altra tipologia di sconti ma non saranno così convenienti come per coloro che sono iscritti alla mia newsletter bene, adesso basta parlare di queste fantastiche offerte ma parliamo di content marketing turistico e sicuramente mi direte ma come? siamo in fase di zona gialla, zona rossa non so di che colore sono io e mi viene a parlare di content marketing turistico? certo, io lo faccio perché a parte questo è un argomento evergreen che vi può essere utile anche se il lockdown dovesse finire domani perché trovano la soluzione al problema ma non dobbiamo dimenticare che dobbiamo continuare a fare marketing il problema c'è non facciamoci abbattere ulteriormente della situazione non peggioriamo la situazione oppure come dicevo finisce lockdown da domani è tutto risolto ci sono comunque ad esempio delle strutture ricettive che chiudono ad esempio durante il periodo invernale perché sono le strutture stagionali estive che cosa fanno? smettono di comunicare con i clienti no, questo è proprio il momento giusto anche se siete chiusi per comunicare con loro e per prepararli a quelli che sono gli acquisti che effettueranno le prenotazioni che effettueranno durante la stagione ecco il cliente deve essere preparato non è che poi voi mettete il post prenota la camera o prenota il tour e quelli lo fanno ok? ma devono essere preparati e li dovete anche invogliare quando si va a creare un contenuto per i social dobbiamo pensare sempre alla piattaforma di destinazione infatti voi mi direte sì, ok, devo creare i contenuti ma per quale piattaforma? questi possono essere i social magari c'è chi utilizza Facebook c'è chi utilizza Instagram ma potete utilizzare anche il vostro sito creando un blog ovvio che vi dico di fare tutto ciò fatto per bene e ora mi ritroverò i commenti e grazie no, nel senso fatto per bene significa che anche se state facendo un fai da te state creando i contenuti in autonomia vi consiglio sempre di fare una ricerca di keyword perché vi dico questo ho avuto anche la prova con i miei clienti e vi riporto questo esempio eclatante io ho avuto un cliente che quando abbiamo iniziato a collaborare aveva un sito pessimo è stato accordato che questo sito sarebbe stato rifatto ma visto che dovrà avere determinate caratteristiche l'agenzia che si occuperà della costruzione del sito ha detto guarda ci vorranno uno o due mesi non è che lo riesco a fare subito quindi qual è stato l'accordo? creare dei contenuti temporani che stessero adesso su questo sito allora come dicevo questo sito era da prendere e da buttare per il mondo non esisteva la gente non lo trovava nemmeno per sbaglio bene con un articolo del blog questo l'avevo fatto io non era stato fatto in autonomia del cliente creato utilizzando le parole chiave che utilizzano i suoi potenziali clienti che li utilizzano per cercare determinati tipi di argomenti mi sono trovata questo sito in prima pagina su google senza sponsorizzata la quarta posizione che per un sito fatto come è fatto adesso credetemi è davvero un risultato sorprendente ma è stato fatto un articolo con cognizione di causa quindi le cose non sono state fatte a casaccio quindi mi raccomando è un aspetto che non dovete sottovalutare stesso discorso se queste parole chiave voi le utilizzate nei vostri post mi raccomando quando pubblicate online dovete sempre seguire il principio dell'80-20 quindi se idealmente in una settimana pubblicate 10 post 2 dovranno essere dedicati alle offerte e gli altri 8 saranno di puro content marketing ma che cos'è questo content marketing? in quello che io vi andrò a consigliare in proprio in questo video bene il content marketing è proprio il contenuto noi creeremo dei post che abbiano dei contenuti interessanti per i nostri utenti quindi non andremo a fare il post compra oggi il tour oppure compra oggi il soggiorno stanza ad esempio stanza superior noi andremo a fare un contenuto magari ripostiamo un articolo del nostro blog dove parliamo di magari un itinerario che si può fare nelle nostre vicinanze oppure facciamo vedere le esperienze che possono vivere le persone nel momento in cui verranno a soggiornare da noi o se prenoteranno un determinato tour presso la nostra agenzia perchè vi dico questo? perchè è importante adesso il content marketing online perchè dovete dimenticare l'idea che il marketing sia ancora prodotto centrico il prodotto non è più al centro di tutto adesso al centro di tutto noi abbiamo il cliente e questa deve essere una cosa fondamentale e il cliente che cosa vuole? adesso vuole il turismo esperienziale dell'offerta con la camera superior 25 metri quadri non gli interessa o si vuole sapere se c'è il frigo bar se c'è la colazione inclusa va benissimo ma non deve essere quello il main topic dei vostri post soprattutto quando creerete un'offerta quindi puntate all'esperienza però io non vi voglio adesso tutti quanti davanti al computer o davanti a un foglio bianco a sbattere la testa perchè non sapete che tipo di post pubblicare e qui vi do un ulteriore consiglio e come vedete non siamo ancora arrivati a pubblicare i post online però queste sono tante cose che voi dovete fare per arrivare poi allo scopo di finale ovvero rendere quel post un post che converta che non significa convertire in guadagni in prenotazioni può essere anche in conoscenza del brand e così via quindi generare contatti le conversioni possono essere tante poi la strategia di marketing che voi andrete a delineare sarà proprio basata sugli obiettivi che volete raggiungere quindi il mio cliente chi è? chi è già iscritto al mio canale e se non sei ancora iscritto fallo subito saprà che dico sempre una cosa se parli a tutti non parli a nessuno la risposta generale tendenzialmente è io ho tutti i clienti è raro che qualcuno ti venga a dire no ma io ho questo determinato tipo di cliente perché solitamente si ha la paura di andare a escludere gli altri invece non è così e comunque non parli non avrai sempre tutti ti renderai conto che anche tu stai lavorando in una nicchia di mercato vuoi per la posizione geografica vuoi per la tipologia di hotel vuoi per la tipologia di agenzia magari non so sei in un'agenzia che si trova in un centro commerciale e ti renderai conto che magari hai più famiglie come clienti perché è un luogo dove si recano maggiormente le famiglie quindi ti hanno visto più e più volte quando andavano a fare la spesa e decidono di venire da te a fare una chiacchierata perché magari hanno deciso solo di fare una passeggiata al centro commerciale ora questo è un esempio poi sono i numeri quelli che contano quello che voi avete sotto mano un'analisi effettivamente dei vostri clienti già vi aiuta a capire voi dove siete posizionati se non lo siete è importante capire chi avete davanti quindi chi possiamo avere i baby boomers la clientela blazer i millennials che hanno figli magari dai 0 ai 9 anni e quindi che fanno parte della generazione alfa magari voi mi dite ok queste cose non mi dicono assolutamente niente vi anticipo che ho già fatto dei video in merito quindi magari potete andare a guardare la mia playlist sugli hotel dove parlo di questi segmenti così per farvi un'idea più approfondita ma qui vi anticipo qualcosa perché mi interessa sapere se tra i miei clienti ci sono maggiormente i baby boomers bene i baby boomers hanno un potere d'acquisto hanno più tempo rispetto a coloro che lavorano e quindi viaggiano solamente in determinati periodi ad esempio c'è stato il fatto del bonus vacanza sembra che gli albergatori se ne siano occupati solamente durante l'estate sì ma c'è la gente che è tornata a lavorare mentre i baby boomers no metti che adesso non ci fossero state nuovamente delle restrizioni lo potevano fare tranquillamente perché loro hanno dalla loro parte anche il tempo e quindi si possono permettere di viaggiare in periodi non di alta stagione quindi loro che cosa cercano? tendenzialmente cercano quell'esperienza da fare una volta nella vita e quindi cercano il turismo esperienziale se io faccio parte della clientela blazer mi porto la famiglia dietro quando lavoro quindi invece di soggiornare una o due notti soggiorno magari quattro perché poi ci unisco anche una mini vacanza quindi magari che cosa mi può interessare come contenuto un tour di una giornata dove andare a mangiare ecco oppure se sono un genitore con un figlio di 0,9 anni io ho la tendenza a organizzare con mio figlio il viaggio e i bambini a che cosa sono interessati? ad attrazioni come non so Etnaland oppure Gardaland e così via ecco questi sono aspetti fondamentali per poi creare dei post che vadano a parlare direttamente ai vostri clienti ma che tipo di contenuto posso creare posso mettere le foto posso mettere i video posso mettere gli articoli del blog come stavo dicendo prima per gli articoli del blog non perdete più di tanto tempo a mettere gli articoli del blog di qualcun altro perché voi il vostro obiettivo deve essere quello di portare traffico a vostro sito e farli restare sul vostro sito che noi andiamo ad aumentare la brand awareness di qualcun altro non ci interessa le persone devono restare con noi posso mettere magari dei video che tipologia di video ad esempio se io metto la foto su un'agenzia viaggi dell'offerta di disneyland che sappiamo che è molto costosa prima di arrivare a mettere quella foto mettimi diversi video dell'esperienza di disneyland fammi desiderare essere lì perché un conto che io vedo direttamente l'offerta vedo a 1500 euro per tre giorni ci devo mettere anche il volo e la dico vabbè lasciamo stare che è meglio un conto che tu mi hai lavorato per una settimana e ovviamente non fate non siate monotematici adesso questo è un esempio quindi mi hai fatto vedere un sacco di video di quello che si fa a disneyland bambini felici ho coinvolto anche i miei figli nella visione di questo video e mi rendo conto che io ci voglio andare quando vedo poi quel preventivo dico ok ci dobbiamo organizzare per utilizzare per raccogliere questi 1500 euro per fare il viaggio ovvio ci saranno coloro che non possono comunque permettersi ma ci saranno quelli che risparmieranno risparmieranno e verranno a prenotare il viaggio da te oppure quelli che hanno già un potere d'acquisto alto e vengono e dicono ok mi hai convinto prenoto quindi questo è un esempio di quello che può essere un video oppure le foto le foto ecco nell'ambito turistico quelle più gettonate ovviamente sono quelle dei panorami cercate di non mettere foto di panorami a caso ma qualcosa che sia davvero nelle vostre vicinanze che potete utilizzare come scusa ti sto mettendo questa foto perché sappi che dal mio hotel puoi fare questa gira di un giorno se le persone sono interessate oppure come immagini potete mettere delle immagini di cooking class magari avete una clientela di baby boomers tedeschi che sono interessati a venire in Italia potete imparare a fare la pizza a Napoli e quindi avete organizzato una cooking class ma io non vi sto dicendo di investire già centinaia di euro per fare queste cose cercate di creare anche collaborazioni con chi già le fa magari per il coronavirus non si possono fare quelle di gruppo ci saranno quelle individuali ma non dobbiamo pensare queste cose le vogliano fare solamente gli stranieri anche noi italiani abbiamo voglia di turismo esperienzale magari nella nostra stessa nazione imparare a fare non so un determinato piatto di una regione che è a mille chilometri da me che da punto di vista culinario ha diverse abitudini lo sappiamo che tra nord e sud ci sono tantissimi piatti buonissimi che uno le fa in un modo un altro ognuno ha le sue tradizioni ecco quindi bisogna puntare anche a questo un'altra cosa che poi potete postare sono gli user generated content ad esempio sono i contenuti che sono stati creati dai vostri utenti che sono una prova sociale molto potente e funzionano tantissimo se avete dei post già fatti in agosto e siete a gennaio magari li ripostate non è un problema ovviamente scrivete magari sognando l'estate aspettando l'estate 2021 condividiamo con voi questi bei momenti dell'estate 2020 questo può essere un esempio oppure potete avete organizzato un tour per il Lazio ad esempio quindi facciamo un tour nel Lazio ne avete già organizzati altri mettete le foto dei precedenti tour ok quindi la gente già ha visto che con voi ci si diverte e può passare davvero una bella esperienza ovvio che questi sono tutti esempi però voi dovete testare tutto perché dovete vedere effettivamente quello che piace alla vostra audience i video sono il contenuto che va per la maggiore ma nonostante io sia una che faccia video e sia guardi anche i video io ad esempio preferisco gli articoli del blog non siamo tutti uguali quindi dovete vedere la vostra clientela effettivamente cosa va cercando poi magari vi fissate che volete andare su Instagram perché su Instagram ci sono tutti ma avete come clientele baby boomers che su Instagram non ci stanno o che comunque non lo utilizzano per questo scopo quando create dei contenuti è importante pianificare pensare alla piattaforma di destinazione quindi se devo creare dei contenuti per Instagram il contenuto lo farò in verticale se lo devo fare per Facebook o per YouTube lo farò in orizzontale è vero si può adattare tutto ma credetemi è stato dimostrato più e più volte che i contenuti creati nativamente per la piattaforma di destinazione hanno maggiori ritorni hanno maggiori conversioni e quando vi parlo di conversioni non significa che vi sto dicendo è conversione è la vendita la conversione può essere anche l'acquisizione di un contatto la conversione può essere anche l'aumento della brand awareness se la gente inizia a ricordarsi di voi voi state andando nella direzione giusta perché non potete pensare ogni cliente deve seguire un percorso non potete pensare che il cliente non vi conosce subito acquista no si vi riconosce c'è la fase della decisione e così via ci sono diversi passaggi che compie prima di procedere all'acquisto il mio consiglio è quello di programmare non lasciate i post al caso o comunque quando avete tempo durante la giornata perché magari adesso avete tempo ma lo sapete benissimo che quando si è in alta stagione non si è il tempo nemmeno di respirare quindi figuriamoci di occuparsi di questo lato del marketing a meno che ovviamente non abbiate qualcuno che se ne occupi per voi e questo va benissimo ma dovete avete a disposizione ad esempio facebook che vi permette tramite creator studio di caricare i post e di programmarli così se durante la settimana non avete avuto tempo comunque la programmazione online c'è stata tranquillamente quindi vi dedicate delle ore a settimana o al mese fate un piano editoriale in base ai vostri obiettivi e così avrete la possibilità di essere sempre online perché un post fatto una volta al mese non serve a niente io comunque sono a disposizione anche per delle consulenze quindi se mi volete scrivere fatelo pure a info.chioccio.alessiavocanfuso.com così avete modo di prenotare una consulenza con me intanto comunque iscrivetevi al canale perché ho già fatto tanti video di approfondimento su argomenti che io ho toccato adesso in questo video quindi se voi le andrete a vedere andrete a conoscere altri aspetti che vi saranno utili per la creazione dei vostri post un'altra cosa che vi può essere di aiuto nella creazione dei contenuti è quella di ascoltare quelli che sono i vostri clienti quali sono le domande solite che fanno ora vi parlo di quelle domande che non c'entrano niente con marketing del turismo una delle domande che mi veniva fatta in continuazione 80 volte al giorno quando ero dipendente che mi chiedevano ma non ti posso dare una carta garanzia che in realtà è una poste pay vuota no non lo puoi fare soprattutto non sono questo il tipo di domande che io intendevo ma non dobbiamo dare per scontato che la gente conosca il posto dove noi siamo perché magari si hai una struttura ricettiva a Firenze o stai proponendo un tour a Firenze ma credetemi c'è gente che poi va lì e chiede dov'è il Colosseo diamo per scontato determinate cose che in realtà non lo sono per niente ma c'è anche da dire che magari non sei a Firenze sei in un piccolo borgo o anche un altro borgo non tanto conosciuto e magari la gente viene da te perché è appassionata di storia medievale tendenzialmente ti fa delle domande e vuole andare a vedere posti che non ti saresti mai aspettato io ad esempio nel momento in cui mi sono trasferita in Sicilia ho iniziato a lavorare in una struttura ricettiva io come sapete sono ad Augusta lavoravo proprio ad Augusta e all'inizio mi stupivo del fatto che le persone venivano e mi chiedevano subito informazioni sul mercato del pesce di Catania e con tante cose che ci sono da vedere perché Augusta è davvero una posizione strategica e puoi vedere tantissime cose io mi stupivo che cosa ho dovuto fare sin da subito è stato studiarmi è stato quello di studiarmi quella zona perché è un punto di interesse che attraeva i turisti soprattutto francesi e quindi dovevo creare proprio dei post ad hoc nel momento in cui voi create i post attenzione li potete potete sfruttare la funzione multilingua quindi non avete la necessità di fare il post in italiano sotto lo mettete in inglese e sotto in francese utilizzate la funzione multilingua andatevi a vedere il video che ho già fatto dove spiego in dettaglio come sfruttare questa funzione perché vi sarà molto utile per i clienti internazionali ora come sempre spero che questo video vi sia stato d'aiuto se avete altre domande scrivetemi pure sarò felice poi di fare altri video di approfondimento iscrivetevi al mio canale così da non perdere tutti i miei contenuti e vi aspetto a lunedì per un prossimo video besos